Cigep 2023 continua, ci troviamo allo stand Coind, la torrefazione bolognese presente in tutta Italia e non solo con i marchi Atti Bassi e Meseta, con noi oggi c'è Pietro Manzini, il responsabile commerciale dell'azienda. Pietro, è un gran piacere rincontrarti qui a Sigel. Il piacere è mio Fabio, grazie a voi per questa opportunità e grazie a quelli che ci seguono da casa o sono venuti qui allo stand in questi giorni a vedere i nostri prodotti, a degustarli, assaggiarli, a commentarli anche con noi nei banchi degustazione perché questa attività qui che facciamo nelle fiere è un'attività per noi fondamentale per poter crescere giorno dopo giorno a livello qualitativo e anche per poter tastare un po' il polso del mercato per vedere cosa pensano quelli che poi sono i nostri consumatori finali al bar. Diciamo innanzitutto che con questa edizione, la 2023, Cigep riprende il suo splendore. In questi giorni qui a Rimini nei corridoi di Italian Exhibition Group che organizza la fiera Cigep 2023 ci sono state centinaia di migliaia di visitatori riprendendo davvero lo splendore di quelli che sono state le edizioni fino a quella 2020, la pre-pandemia. Sì esatto, ci siamo lasciati nel 2020 proprio prima della pandemia con un'edizione da record abbiamo ripreso l'anno scorso Giocoforza in un periodo dell'anno che non era quello tradizionale del Cigep e quindi è stata un'edizione diciamo in un tono diverso quest'anno devo dire che proprio come hai detto tu siamo ripartiti dal 2020 e quest'anno siamo andati oltre perché l'affluenza e l'interesse soprattutto delle persone che sono transitate per i padiglioni della fiera è stata evidente pur non avendo dei dati precisi in questo momento qui lo tasti, lo senti, lo vedi. Cioè il sabato solitamente in questa fiera che noi facciamo da una vita era un giorno dal medio accesso dove uno era un po' più scarico quest'anno il sabato è stata una giornata clamorosa a livello di afflusso e nonostante direi che in questi giorni il meteo non ci siamo fatti mancare niente ecco la neve, il vento, la pioggia forte, un po' tutto però questa edizione secondo me ha posizionato Cigep veramente nel panorama delle fiere più importanti a livello internazionale ecco, moltissima Italia ma anche tanto estero Parliamo di quello che voi oggi presentate a Cigep Sì, noi abbiamo incentrato il nostro stand fondamentalmente sui brand mesete e atti bassi soprattutto il brand atti bassi abbiamo voluto elevarlo in questa fiera per quello che è, cioè il brand premium dell'azienda un marchio riconosciuto in tutto il mondo come sinonimo di qualità e i prodotti che abbiamo presentato in anteprima in questa fiera cioè una nuova miscela che vedrà la luce nel corso del 2023 e i monorigine stanno a testimoniare che questo brand è il brand premium in abbinata con le attrezzature da bar della Marzocco e della Ceado con l'obiettivo, come ho detto prima, che venga proprio percepito e valutato come un brand di assoluta qualità Ecco, atti bassi è quello che stavamo vedendo negli ultimi istanti con l'offerta del prodotto in grani da un chilogrammo in mono porzionato con la capsula Nespresso in alluminio e con la mattonella, quella che chiamiamo la mattonella cioè la confezione da 250 grammi di macinato Sì, la gamma del prodotto atti bassi è composta dal prodotto in grani per il bar nel formato tradizionale da chilo il monorigine che abbiamo introdotto proprio in questa fiera nel formato da 500 grammi e abbiamo il macinato, nello specifico, il caffè fito, il filter coffee destinato prevalentemente comunque al mercato internazionale nel classico formato da 250 Per quanto riguarda la capsula in alluminio abbiamo scelto di fare l'esclusivo formato da tubo da 10 capsule per ogni tubo perché riteniamo che il formato da tubo ci elevi un po' nel panorama delle compatibili Nespresso Beh, intanto devo dirti complimenti per la miscela 70-30 che ho assaggiato un po' prima dell'intervista che mi avete offerto perché è davvero estremamente equilibrata E allora Pietro, per tutti coloro che sono dall'altra parte forniamo un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per proporsi come agenti per zone libere richiedere maggiori informazioni rispetto sia al brand Atti Bassi che al brand Meseta affinché ci possa essere un contatto diretto con voi Sì, chiunque sia interessato ad avere informazioni può scrivere direttamente all'indirizzo di posta elettronica info-coind.it Noi ci vedremo tra otto mesi direttamente a Oss nell'edizione 2023 che si preannuncia come una grandissima edizione tantissimi saranno coloro che hanno detto che presenteranno delle novità per cui noi stiamo già affilando le baionette per andare a colpire tutti per poter fornire come sempre un'informazione puntuale e di qualità Pietro, grazie per la tua cortese collaborazione Grazie a voi e colgo l'occasione per confermarti che anche noi presenteremo delle novità a Oss 2023 l'appuntamento in Italia è a quella fiera per quanto riguarda l'estero chi avrà occasione di visitarlo prossimamente ci sarà il Galfood dove noi saremo presenti in maniera importante essendo quella un'area molto presidiata soprattutto dal brand Attibassi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti